Ciao da Dongogo, oggi la maggior parte degli script plugin per GIMP vengono scritti in in Python invece del vecchio schema ovvero SCM. Questo permette un sacco di possibilità ma purtroppo quando installiamo GIMP su Windows Pintone non è supportato. Per soprire a questo seguiamo questa guida presente su gimpuser.com e procediamo all'installazione di Pintone su Windows. Per prima cosa dobbiamo scaricare Pintone Cairo Object, GTK e poi anche ovviamente Pintone. Ok come vedrete, come dice la stessa guida, quando lanciamo l'installazione di GIMP, ecco andiamo avanti, ok ancora avanti, vedrete che GIMP Pintone e le estensioni non sono disponibili. Per cui cosa dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto, come già detto prima, scaricarci Pintone. Attenzione che procediamo a scaricarci GTK, Cairo e Egypt che vengono supportati da Pintone 2.6. Se andiamo direttamente nel download di Pintone troviamo il 2.7 e il 3.1.2 ma noi necessita avere il 2.6 che metterò comunque il link nelle info. procediamo a scaricarlo e poi lanciamo il setup, eccolo, del 2.6. Ok, installa per tutti gli utenti, inserire in C, andiamo avanti, metto pausa per l'installazione, ecco abbiamo terminato, poi lanciamo Cairo, ecco qua la directory 2.6, andiamo avanti, avanti, fine. Lanciamo il GTK, esegui, avanti, ok. Abbiamo installato tutto il necessario. Se voi vedete, io sto lavorando comunque su un Windows virtualizzato su Ubuntu. Comunque per far questo ho virtualizzato Windows su Ubuntu per farvi vedere come fare procede dall'installazione di Pintone su Windows. Ok, adesso possiamo tranquillamente lanciare il setup. Eccolo qua. Adesso Pintone, l'estensione di Pintone saranno disponibili. Pintone, l'installazione di Gimp. Ovviamente se voi Gimp l'avete già installato, siete costretti a disinstallarlo, installare Pintone, Cairo, Object e tutte le librerie e poi reinstallare nuovamente Gimp. E' per vedere se tutto è andato a buon fine. Stendiamo che finisca. Abbiamo quasi finito. Ecco, per vedere se tutto è andato a buon fine. In Filtri, ecco qua, avremo anche Python. Adesso possiamo tranquillamente procedere a installare in Gimp gli script e i plugin scritti in Python. Uno dei più famosi è LireEffect. Allora, adesso non ci resta che scaricare il plugin. Lo scarichiamo da GimpPluggingRegist. Invece di scaricare lo schema, scaricheremo questa volta il Pintone. Lo salviamo. Salva link con nome. Lo salviamo nella cartella Document & Settings Linux.gov. Ovvero la vostra username, GimpPlugging. Facciamo salva. Una volta salvato, adesso apriamo un'immagine. Io ho scelto quello del logo di GimpItalia. E troveremo gli effetti nel menu livello. Eccoli qua, LireEffect. Oppure cliccando con il destro sui livelli. Eccoli qua, LireFight. La differenza sostanziale tra lo schema e il Pintone che fa molto comodo è l'anteprima. Infatti, vediamo subito quello che accade manovrando sul plugin. Ecco, vedete? Tutta un'altra storia. E con questo è tutto. Un saluto da Coco. Ciao. Ciao.